Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Come ti permetti l'urido maritino fammi sapere subito se io ho fatto bene quel momento la di debolezza alla e lasciare il mio maritino super mega ricco e anche leggermente Arziano Gerard per cadere nelle tue grandissime e muscolose mani. Fammi sapere se il mio amante preferito è davvero l'uomo che avevo sposato e che ha deciso di uccidermi quella volta perché tu una volta distrutto adesso. Ti dovrai spostare siamo venuti qua nelle segrete sotto la tua arena per non farsi vedere dagli altri perché io non voglio che il grande imperatore Xiao faccia delle brutte figure presso tutti gli altri del Colosseo perché dopo io devo scontrarmi con la mia figlioccia perché lei deve capire che la imperatrice non può fare quello che sta facendo ovvero salvare persone. Brutto maritino come ti permetti tu devi essere sempre a cospetto di me devi inginocchiarti devi sapere dove stare. Caro Shao Kahn la prima volta tu hai perso la testa non in modo letterario come ora e adesso Kitana affrontami. Kitana ha sofferto abbastanza lei non ha bisogno del tuo aiuto ma questo non mi fermerà round one fight e chi sei tu come osi contrapporti al mio volere tu ti devi immediatamente spostare perché io devo andare a insegnare una bella lezione alla mia figlioccia tu sei il suo maritino perfetto e allora assaggerai ancora un'altra ira sempre del mio stesso sangue sua madre perché io ti devo insegnare le buone maniere stolto di un Lu Kang come posi non subire le grandi mosse della grande imperatrice l'imperatrice del tempo colei che fa inginocchiare tutti ah quindi Kitana non è abbastanza coraggiosa nel venire qua e contrapporsi alla sua madre colei che l'ha messa al mondo certo poi Shao Kahn quel vile villano ha osato permettersi di creare una sua figlia una sua figlia che deve essere perfetta sotto ogni punto di vista invece non lo è stato io invece ho sempre creduto nelle tue potenzialità Kitana e vedi dove sei finita adesso? sei finita sei finita come imperatrice di questo luogo ma mandare qua il tuo maritino per battagliare le tue guerre questo non me lo aspettavo assolutamente e adesso lui farà una brutta fine e adesso Kitana nella tua incredibile potenza massima potenza affrontiamoci e vediamo chi avrà ragione alla fine la verità verrà a galla si sono tornata figliola e adesso è il tempo non che tu mi apri in due ma è il tempo che io ti batta una volta per tutte maledizione perché tu mi stai già sventolando le tue sventole ho visto che tu vuoi batterti dinnanzi a tutti e vuoi farti vedere che sei la migliore beh adesso io ti farò pentire di aver scelto questo come campo di battaglia fatti sotto io ti distruggerò una volta per tutte senza troppo induso perché Shao Kahn è l'unico vero imperatore che merita di essere sul trono di questo regno tu vuoi soltanto liberare i posti, gli avamposti e tutte le altre cose dalle brutte persone che vivono in questi posti non lo posso permettere tutti si devono inginocchiare al mio cospetto e in questa sfida a livello difficile io sto vendola meglio perché tu figliozza devi capire che se tu sei a capo di un regno tu devi mettere in putere terrore paura cara Kitana mi dispiace ma adesso è giunta la tua fine io sono ritornata dalle ceneri Quanzi mi aveva ammazzato Shao Kahn mi aveva tradito e Kitana non mi voleva più bene come una volta i legami di sangue sono stati dissolti e io sono la nuova imperatrice